La povertà e la bassa istruzione fanno male alla salute. Lo rileva uno studio frutto della collaborazione tra CNR e la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare che evidenzia l'aumento di diabete, obesità e colesterolemia tra le persone meno abbienti e conferma come nella diffusione di alcune patologie si leghino reddito, scolarità e abitudini di vita. Lo studio prende in esame i dati in due periodi di tempo, confrontando i risultati del periodo precedente la crisi economica, dal 1998 al 2002, con quelli post-crisi, cioè del 2008-2012. Quel che emerge è un aumento di condizioni a rischio. Inoltre, salute e buone abitudini appaiono correlate con reddito e scolarità. Tra le persone con minor scolarizzazione o soffrire di diabete nel primo periodo era il 16,3% degli uomini e l'11,6% delle donne, che nel periodo di crisi passano rispettivamente a 17,7% e 13,2%. L'obesità colpiva tra il 1998 e il 2002 il 21% degli uomini e il 28% delle donne, che nel secondo periodo sono diventati rispettivamente il 29,1% e il 35,5%. L'ipercolesterolemia è cresciuta dal 21,3% dei maschi e 28% delle femmine, rispettivamente al 40% e al 45,6%, sottolinea il ricercatore dell'INCNR. Lo stesso confronto è stato effettuato sul gruppo di popolazione più alta scolarizzazione, sempre mettendo a confronto il 1998-2008 con il 2008-2012. In questo caso si registra una situazione più variegata. La percentuale dei affetti da diabete si riduce tra i maschi e tra le donne, l'obesità è invece in crescita. Cala invece l'ipercolesterolemia, è in calo tra i maschi ma aumenta fra le donne. Queste differenze, spiega il CNR in una nota, si allineano a quanto evidenziato dai dati ISTAT, che correlano reddito e scolarizzazione nel definire lo stato di benessere. Gli stili di vita meno salutari, quali il scarso esercizio fisico e un'alimentazione poco sana, spesso appaiono legati a minore reddito e scolarità. Si evidenzia anche come le difficoltà economiche abbiano un effetto più diretto sulla salute. I consumatori di quantità elevate di alcol sono il 4,5% della popolazione più ambiente e il 5,2% di chi ha difficoltà economiche. A svolgere attività fisica nel tempo libero è rispettivamente il 28,3% e il 25,9% e anche il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno è più elevato tra i benestanti rispetto a quanti risentono della crisi. I anziani della zona dell'Alto Garda possono beneficiare di un nuovo servizio. Da oggi non dovranno più faticare per portarsi a casa le borse della spesa, a piedi o in bicicletta, con il continuo rischio di finire in terra e farsi male. Un importante supermercato locale ha deciso di attivare un servizio tanto semplice nello svolgimento quanto importante nei suoi effetti. La cooperativa di consumo più grande del Trentino ha infatti deciso di offrire ai propri associati un'opportunità in più. Una volta a settimana, il venerdì, verrà assicurato ai soci più anziani o con difficoltà motorie il servizio di consegna gratuita della spesa a domicilio. Le modalità di esecuzione sono molto semplici. Il socio si reca in negozio il venerdì mattina, fa la spesa, raggiunge la cassa per l'acquisto e il pagamento e a quel punto dichiara al commesso di voler usufruire del servizio la spesa che non pesa, quindi della consegna gratuita a casa di quanto appena comprato. A questo punto l'anziano fornisce il proprio indirizzo e il numero di telefono e quindi esce dal supermercato con le mani libere, senza l'ingombro e l'assillo delle borse da trascinarsi appresso. Toccherà ai volontari prendere in consegna la spesa, sistemarla e quindi consegnarla nel pomeriggio all'orario concordato. L'iniziativa per ora riguarderà solamente un punto vendita, ma c'è l'intenzione di ampliarla ad altri negozi, ovviamente in caso di risposta positiva da parte dell'utenza. Con una popolazione che continua ad invecchiare, l'assistenza agli anziani diventa inevitabilmente un business. Il gruppo francese Orpea punta con maggior decisione sull'Italia dopo aver realizzato oltre 400 strutture tra RSA e cliniche di riabilitazione in Francia, Spagna, Belgio e Svizzera. Si tratta in altre parole di un colosso delle strutture per la terza età, con più di 40.000 posti letto e un fatturato di 1,6 miliardi di euro. C'è comunque ampio spazio per nuove imprese, dato che in Italia il fabbisogno di posti letto nell'RSA dovrebbe crescere di 60-80.000 unità nei prossimi anni. Per questo, dopo l'apertura a Torino di una residenza con 180 posti letto, che ha portato a 13 centri aperti in Italia con 1.276 posti letto, il gruppo transalpino si appresta a inaugurare tre nuove RSA nelle province di Bergamo, Venezia e Verbania. Saranno inoltre ampliate le strutture già esistenti a Genova, oltre a quella realizzata a Torino. Maorpea ha individuato nell'Italia del Nord l'obiettivo strategico di una forte espansione. Per questo ha avviato contatti in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Piemonte, puntando su città con alta densità di abitanti ed una buona capacità reddituale media. Il primo obiettivo è di raggiungere rapidamente i 3.000 posti letto operativi, che consentono economie di scala e giustificano una sede italiana con servizi centralizzati. Ancora una volta la crescita della popolazione anziana si conferma come una possibile opportunità economica e di occupazione per chi la sa accogliere. Il rischio è che l'Italia, con il suo alto numero di over 65, diventi un mercato di conquista, più che un incubatore di capacità ed esperienze da esportare. La musica può essere una terapia molto utile, tanto che esistono i corsi di musicoterapia anche a livello universitario. La musica libera emozioni, ma aiuta anche a concentrarsi, ad avere maggiore attenzione, ad allenare udito, vista e ragionamento. Il suono degli strumenti aiuta già molti bambini e molte persone malate e sicuramente è un tocca sana, non indifferente, anche per le persone anziane. L'ho sperimentato con successo una casa di riposo catanese, organizzando una vera e propria corale. L'insegnante di musica che si è assunta il difficile compito è la professoressa Venera Musumeci, docente di pianoforte, chiamata ad aiutare le suore dell'Istituto per Anziani Casa Mia di Acireale a trovare attività che tenessero gli ospiti impegnati e attivi per evitare che cadessero nella depressione e nell'ozio. Organizzare un coro con voci di persone ultraottantenni, spesso distratte e perfino pocudenti, non è stato affatto facile, ma alla fine il successo è stato tale da dare vita a un piccolo gruppo di cantori per animare la messa della locale Cappella. Dopo un anno i risultati si sono fatti vedere in modo chiaro e sono stati molto incoraggianti. Gli anziani non soltanto hanno sviluppato uno spirito di gruppo che li ha distratti dal continuo pensiero di sé, che in alcune situazioni può portare alla depressione, ma hanno imparato ad ascoltare meglio, a stare attenti a pause, ritmo, differenze di tono. Hanno allenato le proprie funzioni cerebrali, abituandosi a seguire il pianoforte. Hanno anche imparato a migliorare i propri limiti e a usare gli errori per cambiare in meglio. La musica è un'arte con un enorme potenziale curativo, da spendere certamente in tante occasioni di recupero.